Sul piano anche del riscatto culturale, perché è vero quello che lei dice, la città tutto sommato non si vuole molto bene, però mi faccio anche dire che lisciare il pelo della rabbia delle persone è troppo facile, questo è anche un problema da affrontare, bisognerebbe alzare un po' l'asticella del livello anche del dibattito, ma questa è una considerazione che lascio a lei. Sul piano generale, anche rispetto a questo appuntamento di Agrigento Capitale della Cultura, che ci si dimentica che non è Agrigento, era la provincia di Agrigento, cosa pensa? Io penso che è un'occasione che ci sta scappando completamente di mano, io ho incontrato il sindaco di Agrigento la sera del concerto del volo e ho ribadito le mie perplessità, perché ho detto chiaramente, secondo me ci stiamo perdendo del tutto, perché Agrigento oggi soffre l'assenza di alcuni servizi legati all'ospitalità che dovrebbe mettere in atto per questo appuntamento, ma poi tutto il territorio è completamente spento, qui non si è fatto sistema, io ho preso parte anche a qualche riunione di Agrigento legata a questa cosa, ma non ho visto poi i frutti e io vedo tanti comuni con tante risorse che potrebbero essere messe a sistema che sono lasciati completamente allo sbando, ognuno fa qualcosa, i comuni che organizzano le sagre, le feste, la valorizzazione di quello, dell'altro, tutto questo andava comunque messo a palinzesto e reso chiaramente, anche Sciacca, che ricordo che la città di Agrigento raggiunge l'obiettivo grazie alla città di Sciacca, io non ne so niente, non sappiamo niente, noi siamo completamente spaesati, poi ogni tanto esce qualche articolo e si scopre che X rientrerà nel palinzesto, Y rientrerà nel palinzesto, ma con quale sistema? Cioè qua il sistema non c'è, allora poi è normale che ci si lamenta, perché il mondo della cultura nella provincia di Agrigento, diciamola, ma sta molto molto male, perché qui si va avanti perché ci si conosce, perché magari ti viene qualcuno di quel comune a vedere uno spettacolo, ma bello lo posso, perché non si è mai messo a sistema niente? Quindi lei si appella, posso dirlo, all'amministrazione comunale di Sciacca a pretendere? Ma anche soprattutto, anche perché noi non possiamo, allora qua il problema è anche uno, se noi guardiamo solo a casa nostra, faremo sempre le stesse cose, guardiamo al carnevale perché si deve fare il carnevale, io amo il carnevale, ve lo sapete, dobbiamo fare l'estate, dobbiamo fare il Natale, ma guardiamo un po' oltre, alziamo lo sguardo e cominciamo a capire quello che vogliamo fare, perché altrimenti noi questa occasione non la sfrutteremo e Sciacca non avrà nessun beneficio come tutti gli altri comuni, attenzione, perché io penso che alla fine il grande rischio sia questo. E poi permettetemi, anche noi dovremmo iniziare a vestirci un po' per aspettare questo evento, perché se Agrigento si lamenta che non ha i bagni pubblici, noi ci dovremmo lamentare di averceli, ma di averli in uno stato pietoso, per fare un esempio.